Prima visione delle cascate, mo' ci andiamo. Una figata incredibile. Il zero della H21 con il gommone è che lui si riscina di più alle cascate. La prima parte della H21 con il gommone è che lui si riscina di più alle cascate. Il gommone con il quale domani la Teresa andrà. Stiamo scendendo verso il fondo della cascata. Altra cascata. La mano che si schien, questo non è stato prono sempre di nada. Ancora cascate, incredibile, incredibile. Ho appena saputo che la garganta do diablo sul versante argentino è crollata ed è stata spazzata lì. È uno spettacolo, incredibile, incredibile. Ancora cascate, una parola, una parola, una parola, una parola, un po' di più. È un po' di più, inizia. È un po' di più. C'è un'umidità fortissima 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 Guardare l'acqua quanto risale C'è un caldo terrificante Un'umidità, ripeto, unica Ho una mezza idea di solvolarle in elicottero Manderemo sotto questa cascata C'è un'umidità fortissima Mamma che emozione Che emozione C'è un'umidità fortissima E' bellissimo E' bellissimo E' incredibile Bella come il sole E' spaventosa Senti che rumore Sono bagnato Pradicia Da tutte un milione di bollicine d'acqua E' bellissimo Guarda che spettacolo E' incredibile E' la fine del mondo Oh mio Dio Che meraviglia Che paura Che meraviglia E' impressionante sea un'umidità E' impressionante. Siamo praticamente choc-chocci nella cascada. Grazie per la visione!